Io, un catalogo e gli è che ho fatto io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Alemagna 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Hispania, ma in Hispania son già 1.3. 1.300, 1.300, van fra queste contadine, nameriere e cittadine, van contesse e baronesse, marchesine, principesse e bandonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Alemania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma, 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 in Hispania, ma, ma, in Hispania son già 1.3. 1.300, 1.300, 1.300, qua fra queste contadine, nameriere e cittadine, van contesse e baronesse, marchesine, principesse e bandonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. D'ogni forma, d'ogni età. Nella pionda e la lusanza di lodar la gentilezza nella bruna. Nella costanza nella bianca la dolcezza